Benvenuto raggio di sole a questa terra di terra e sassi a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi Amici ed amiche di Napoli, benvenuti. In occasione delle prossime elezioni amministrative a Napoli e nei 132 comuni della Campania ci sarà una novità per le famiglie, per le mamme, per i papà, per i nonni, per le nonne, per tutti coloro che hanno a cuore i valori cristiani, cattolici ed evangelici nelle schede elettorali. Sarà infatti presente una alternativa reale e concreta al piattume morale, culturale e politico che attanaglia la città di Napoli e la regione Campania da più di 30 anni. E questa alternativa è rappresentata dal popolo della famiglia, una nuova formazione, un nuovo movimento politico che ha la pretesa e l'ambizione di diventare partito nazionale e di arrivare alle prossime elezioni politiche andando fin anche al governo della nazione. Facciamo però un passo importante. Costituiamo qualche settimana fa in una sala cittadina a Roma questo nuovo movimento, il popolo della famiglia, che prende le mosse dalle due grandi mobilitazioni di piazza di giugno e del gennaio scorso, il Family Day. Convocato dal comitato difendiamo i nostri figli per contrastare la deriva morale e culturale e di costumi che è in corso nel nostro paese. Giugno una grande mobilitazione di piazza che ha chiamato a raccolta un milione di cittadini a piazza San Giovanni a Roma contro il gender nelle scuole. Questo pericolo che è rappresentato nell'alternativa all'insegnamento dell'approccio all'affettività per i bambini, fin anche a partire dalla scuola materna e dalla scuola elementare. Successivamente a gennaio ci ritroviamo invece sul così tanto discusso di D.L. Cirinà, il decreto legge che poi è passato in Parlamento sulle unioni civili che conteneva al suo interno il pericolo drammatico dell'adozione dei bambini per le coppie omogenitoriali. Ebbene la riflessione che ci ha portati, che ci ha spinti a creare questo nuovo movimento politico che ha l'ambizione di diventare come detto partito è stata proprio questa. Questo è il convincimento che in entrambe le circostanze a giugno del 2015 contro il gender nelle scuole e a gennaio del 2016 di quest'anno contro il D.L. Cirinà Quelle istanze portate avanti pacificamente da centinaia e centinaia di famiglie festanti che si sono riunite a Piazza San Giovanni e al Circo Massimo sono state di fatto disattese. E la cosa più grave, la cosa più lancinante per noi del popolo e della famiglia è stata proprio questa, che a votare entrambi i provvedimenti con all'interno proprio quelle disposizioni normative che le piazze di giugno e di gennaio contestavano sono stati i parlamentari eletti nei vari partiti presenti attualmente alla Camera e soprattutto al Senato e alla Repubblica che si sono sempre dichiarati di estrazione culturale cristiana, cattolica ed evangelica. Ed allora che fare? Mario Adinolfi e Gianfranco Amato, due esponenti di rilievo a livello nazionale, il primo direttore della Croce Quotidiano, giornale sul quale come giornalista mi pregio di scrivere, il secondo responsabile dei giuristi per la vita, entrambi costituenti del comitato Difendiamo i nostri figli, hanno deciso di dare uno strappo dare uno strappo alla monotonia, dare uno strappo alla linea diciamo di discesa che purtroppo quelle piazze stavano riscontrando nelle istanze disattese in Parlamento e hanno così deciso di passare dalla condizione pre-politica che è stata sempre rivendicata dal comitato Difendiamo i nostri figli alla condizione politica vera e propria. Perché? Perché purtroppo ci si è resi conto di una evidenza, di un fatto concreto e cioè che quelle istanze sono state disattese e che non potevano più essere demandate, la rappresentanza di quelle istanze non poteva più essere demandata a quegli esponenti politici che hanno tradito in Parlamento, hanno votato con Renzi, prima il DDL sulla buona scuola che contiene al suo interno l'approccio all'affettività e il pericolo delle teorie sul gender e successivamente, pochi mesi dopo, a gennaio del 2016, hanno dato il loro contributo concreto facendo approvare il DDL Cirinà che al suo interno, benché ci sia stato lo stralcio sulla step-child adoption, contiene comunque l'egual matrimonio, il simil matrimonio e come sapete il diritto civile prevede che per un istituto come l'Unione Civile che è la copia conforme del matrimonio sia in sede civile che in sede religiosa si dia diritto inevitabilmente alla filiazione e quindi alla genitorialità. Prova ne è il fatto che un minuto dopo l'approvazione del DDL Cirinà, l'Unione Europea ci dice con una nota che quella legge appena approvata è comunque monca della questione della parte sulle adozioni per tutti e un minuto dopo alla Camera vengono incardinati come risposta a quella piazza che civilmente protestava, vengono incardinati i DDL, i decreti legge sul divorzio lampo e sull'eutanasia. Quel popolo non può più restare inerme, questa è stata la riflessione di Adinolfi e di Amato e per questa ragione abbiamo deciso di costituire questo movimento. A Napoli io sono il reggente della rete nazionale dei circoli della Croce, oltre che giornalista della Croce Quotidiano mi chiamano e mi dicono ti devi candidare, mi devo candidare? Sì, devi scendere in campo per rappresentare un'alternativa concreta e reale finalmente per i cittadini di Napoli alla sottile linea rossa che da Valenzi a Valente, passando per Bassolino, Iervolino e De Magistris rappresenta in pieno la deriva morale e culturale che in questi ultimi vent'anni e in modo particolare in questi ultimi due anni nel Paese una certa sinistra ha imposto, ha impresso all'iter politico parlamentare e alle leggi che sono state approvate. Noi ci candidiamo a Napoli per rappresentare, come detto, una reale alternativa. Quest'alternativa deve passare per progetti concreti. Questo è il primo videomessaggio con il quale annunciamo alla cittadinanza napoletana e a tutti i cittadini della Regione Campania che il popolo della famiglia sarà presente a Napoli con Gigi Mercogliano candidato sindaco, con una lista al Consiglio Comunale e laddove possibile presenteremo anche i candidati presidenti e i candidati consiglieri nelle 11 municipalità cittadine. Ma dovete sapere che noi non faremo alcuna alleanza con alcun partito attualmente rappresentato nell'arco costituzionale della destra e della sinistra perché riteniamo tutti i soggetti citati colpevoli da una parte dell'approvazione di leggi contro la famiglia e dall'altra di aver destinato risorse non alle famiglie ma ad altre attività. Prova ne è che nel Comune di Napoli, nella città di Napoli, ci sono tante emergenze e quei pochi soldi che ci sono vengono ad attività che non ricadono nell'interesse della famiglia se il popolo della famiglia con Gigi Mercogliano sindaco entrerà all'interno del Consiglio Comunale di Napoli e sarà una forza degna di rappresentanza noi presenteremo immediatamente alcune proposte e lo faremo unitamente ai nostri colleghi che si candideranno in tutte le altre amministrazioni a cominciare da Roma, Torino, Cagliari, Milano fino ad arrivare a tutti i 132 comuni dove si va al voto a giugno in Campania. La prima cosa faremo, il varo del bonus bebè 2.500 euro per tutti i neonati di coppie con reddito inferiore a 70.000 euro complessivi annui. Il bonus è raddoppiato nel caso in cui il nascituro è affetto da alcune malattie come la trisomia 21 perché siamo fermamente contrari all'omicidio legalizzato di Stato siamo contro l'aborto e vogliamo incentivare la vita. Dopodiché abbasseremo sensibilmente, se entreremo come forza politica se il popolo e la famiglia entreranno in Consiglio Comunale di Napoli abbasseremo sensibilmente l'IRPF comunale di tutte le famiglie numerose con tre o più figli e faremo delle politiche fiscali per una fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie. Il bonus di 2.500 euro per ogni coppia sarà esteso anche alle coppie di età inferiore ai 35 anni con reddito sempre inferiore ai 70.000 euro complessivi che intenderanno unirsi in matrimonio perché per noi la famiglia è fondata sull'unione di un uomo e di una donna che giurano loro stessi fedeltà dinanzi a Dio. Dopodiché noi cercheremo di tutelare tutte quelle imprese che non delocalizzeranno, che lasceranno le proprie attività non appaltandole o subappaltandole a terzi e che saranno da noi scritte in un registro delle imprese virtuose che lasceranno il lavoro a Napoli perché senza lavoro non c'è dignità e senza dignità economica e sociale non ci può essere famiglia. Queste sono soltanto alcune delle anticipazioni che abbiamo voluto lanciarvi con questo primo videomessaggio. Il messaggio è chiaro. Da questo libro Voglio la mamma è partito tutto il nostro movimento culturale che oggi ha la pretesa e l'ambizione di diventare movimento politico e partito politico. Occorre dare una rappresentanza al popolo del Family Day che è stato tradito in Parlamento da quelle forze che si sono dichiarate cristiane, cattoliche ed evangeliche ma che hanno votato provvedimenti e leggi contrari a quei principi. Occorre dare nelle amministrazioni comunali, a partire dai consigli municipali, dai consigli comunali e dalle forze politiche che andranno a governare le città e formeranno i sindaci e le giunte con gli assessori, specifiche indicazioni concrete di sostegno al reddito delle famiglie. Con questi intenti noi intendiamo presentarci alle famiglie del popolo napoletano perché veramente si concretizzi un'alternativa reale al piattume politico che da 30 anni governa Napoli e mal governa la città e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sogna in grande. Adelante! Benvenuto raggio di sole A questa terra di terra e sassi A questi laghi bianchi come la neve Sotto i tuoi passi